Siamo qua con Paolo, il titolare di uno dei più bei bar addirittura del Polesine senza dubbio Siamo del Veneto Bello, bello veramente E parliamo di Portovira, una città che ha sicuramente dei successi economici, delle industrie, funzioni e tutto La guardiamo da un'ottica diversa, edonistica, a voi piace vivere bene? Venerdì sera, 10 e un quarto, tutti i bar sono pieni, come mai? Perché qua la gente gira, piace spendere anche se non ne hanno Oppure chi li ha, gli spende ancora più volentieri Venendo da fuori, uno vede una città viva, macchinoni, gente piena nei bar Alla fine non è solo blefe, è anche sostanza No, è sostanza, perché ha avuto uno sviluppo economico con l'Unione dei Due Comuni E l'Unione dei Due Comuni ha contribuito a far crescere il paese, tutta l'economia e la gente vive Poi a Portovira siamo bravi perché siamo ambiziosi Tanta gente ambiziosa e quindi ricerca sempre di più E va Allora andiamo a vedere il sindaco, un sacco di gente e poi ritorniamo qua per i saluti finali, ok? Ok